Nel regno di Xondor gravava una terribile piaga. Gli esseri umani nascevano afflitti da una terribile maledizione che li incatenava all'imperatore oscuro che gravò il mondo della sua presenza all'alba delle ere. Solo tramite i potenti incantesimi degli stregoni bianchi la maledizione poteva essere spezzata e restituire così i nascituri alla benedizione del dio Enak. Una banale trama fantasy? No, è il mondo in cui crede di vivere la Chiesa Cattolica. Leggiamo dal Catechismo della Chiesa Cattolica articolo 1250. Poiché nascono con una natura umana decaduta e contaminata dal peccato originale anche i bambini hanno bisogno di una nuova nascita nel battesimo per essere liberati dal potere delle tenebre e trasferiti nel regno della libertà dei figli di Dio alle quali tutti gli uomini sono chiamati. La pura gratuità della grazia della salvezza si manifesta in modo tutto particolare nel battesimo dei bambini. La Chiesa e i genitori priverebbero quindi il bambino dalla grazia inestimabile di diventare figli di Dio se non gli conferissero il battesimo dopo la nascita. È interessante anche notare come il loro Dio onnipotente pieno d'amore lascerebbe delle creature innocenti nella dannazione eterna se queste non venissero forzatamente battezzate da altre persone. Lei sì che sa cosa vuol dire amare, signore. Come climax finale alla fine si viene a sapere che i buoni in realtà erano i cattivi. Gli stregoni bianchi altro non erano che una setta che ha costruito la sua società sul sangue degli innocenti oro, menzogne e guerre. Questi maghi arroccati nella loro torre in realtà altro non vogliono che mantenere il loro potere ebri dell'autorità che loro stessi si sono dati. Ma la magia con la quale incatenano i nascituri al loro Dio Enac non è soltanto un incantesimo ma essa vale anche giuridicamente. Come dimostra la sentenza della Corte di Cassazione 10 febbraio 1953 riguardo il caso di un vescovo che calugnò a una coppia che ebbe l'ardita decisione di sposarsi in comune anziché in chiesa. L'autorità ecclesiastica scrisse addirittura una lettera da far leggere ad ogni diocesi su cui era a comando. La diffamazione che i due sposi alternativi subirono fu tale che si ripercosse anche sulla loro attività lavorativa in paese. Così decisero di denunciare il vescovo e nonostante in primo grado fosse stato condannato a risarcire con una cifra simbolica di 40.000 lire alla fine dei giochi la Cassazione sentenziò che sia da ritenersi nel vescovo di Prato nell'emanare il provvedimento incriminato egli non manifestò infatti un suo giudizio personale ma richiamandosi a norme positive del diritto canonico e delle leggi della chiesa si è limitato a qualificare con i suoi poteri discrezionali il comportamento di due suoi sudditi perché battezzati e quindi soggetti alla giurisdizione spirituale. Ed ecco che il battesimo da formuletta magica passa a materia giuridica. Il battesimo infatti ci sottomette anche a tutta una serie di diritti e doveri dell'ordine del diritto canonico. Vediante il battesimo l'uomo è incorporato alla chiesa di Cristo e in essa è costituito persona con i doveri e i diritti che i cristiani tenuta presente la loro condizione sono propri in quanto sono nella comunione ecclesiastica e purché non si frapponga una sazione legittimamente inflitta. E questa condizione assume valore anche per la legge italiana. Sei nato e sei stato iscritto ad una setta registrato ad un fantastato che è spirituale sulla sua carta. Nonostante tu a quell'età non avessi alcuna facoltà o diritto di stipulare alcun atto. A quell'età anche cagarti addosso non è una tua scelta. Pensate che per i genitori è vietato scrivere i bambini ad un sindacato, ad un'associazione, a un partito politico. Ma è perfettamente lecito renderli sudditi di un'ideologia religiosa tramite un pedo battesimo. Tu ora sei un suddito a tutti gli effetti della Chiesa Cattolica che ha diritto di giudicarti secondo il proprio volere e secondo i suoi principi morali. Anche pubblicamente. La Chiesa fa la voce grossa perché è forte di parlare per il 96% degli italiani tutti regolarmente iscritti nel registro dei battesimati. E non importa se tu dopo la celebrazione dell'ejaculazione dello Spirito Santo sulla fronte non abbia mai più messo piede in Chiesa. Sei lì. Conti. Fai numero. Ed è proprio a proposito di numeri che sarebbe lecito chiedersi quanti sono quelli che sono battezzati ma che non credono, non frequentano la Chiesa e non vogliono avere niente a che fare con lei. Io direi tanti. Troppi direbbero loro. Ma attenzione perché un controincantesimo c'è e non ha niente a che fare con la magia. Ormai da diversi anni esiste la possibilità dello sbattezzo che in realtà non è uno sbattezzo. Equivale a mandare una raccomandata alla parrocchia nella quale si è stati battezzati o alla diocesi di riferimento e fare una formale richiesta di dimissioni. Fare presente cioè della propria volontà di non far più parte della Chiesa Cattolica ed essere segnati come tali nel registro dei battesimati. Potete anche scaricare un comodo modulo preimpostato sul sito dell'UAR che da anni si fa promotrice di questa iniziativa. Questa comunicazione di fine rapporto con la fede si chiama apostasia che in ambito cattolico equivale ad una scomunica. Pensate che ancora oggi in alcuni paesi l'apostasia è punita con la pena di morte. Principalmente in paesi dove comanda una famosa religione di pace dove la gente va in giro a dire eh però l'Occidente è suprematista si crede migliore di noi crede che la sua cultura sia meglio di quella degli altri. Sì perché la libertà è meglio di una dittatura teocratica. Sempre. Nel nostro paese l'apostasia non si traduce in nessuna punizione o sanzione anche se per la Chiesa Cattolica questo vuol dire subire delle terribili conseguenze. Tipo non poter più accedere ai sagramenti non potesse più sposa in chiesa non poter ricevere il funerale religioso e il diviedo di poter fare da madrina o padrino. Eh lo so è dura. Vedetela così lo sbattezzo è un battesimo alla propria libertà di pensiero. L'emancipazione del proprio essere che si dichiara libero dal gioco degli stregoni bianchi che cercano di controllare e vessare i propri sudditi. Certo ma il battesimo è un dono che ti hanno fatto e tuoi genitori affindi bene quando sei nato diranno alcuni. Che fai? Rifiuti un loro dono. Certo perché se sei da Roma e tu mare e tu padre quando sei nato ti hanno fatto abbonamento a Lazio tu lo tieni. Lo sbattezzo è un atto di coerenza ma anche utile per delineare una società più libera ma soprattutto far rosicare gli stregoni bianchi che si sentono impotenti di fronte alla libertà individuale. rosicano perché questo non gli capita mai in uno stato cristolaico come il nostro. Aiutiamoli a prendere dimestichezza con questo sentimento. La magia non esiste ma esiste il concordato che riconosce il potere magico della chiesa sui suoi sudditi. Sbattezzatevi scendete dal treno di Fantastilandia perché a Fantastilandia ognuno di voi è il primo vagone e quello dietro con le mani sulle spalle è un prete. Grazie!